Gli agenti della Polizia di Stato della squadra mobile sezione Falchi di Salerno hanno arrestato un 27enne di Salerno per rapina ai danni di una gioielleria del Cintro. Dopo una segnalazione di rapina in atto al numero unico di emergenza, gli agenti sono intervenuti prontamente sul posto ed hanno appurato che due giovani poco prima avevano asportato alcuni orologi del valore di circa 650 euro, dopo aver strattonato la commessa della gioielleria. Immediate le ricerche in zona che hanno portato a rintracciare nei pressi di piazza della Concordia uno dei due responsabili. Il giovane è stato bloccato dagli agenti ed è stato condotto presso gli uffici della Questura e dopo le formalità di rito tratto in arresto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.